Il Foiano andrà a disputare il campionato di eccellenza Girone Bic che prenderà il via l'11 settembre. Tra nuovi arrivi e conferme, la rosa sembra essere completa. Tra i confermati c'è Capitan Mostacci. È già un mese che siamo all'opera, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lavorando bene, siamo un gruppo giovani, c'è solo da lavorare e migliorarci ogni giorno. Filippo ci aiuta tanto, è uno di noi, abbiamo una grande società, un grande staff, e quindi è tutto un insieme che ci porta a fare dei grandi risultati, poi la domenica o il mercoledì quando ci alleniamo. E quindi abbiamo un grande pubblico che per fortuna ci segue ogni domenica, non chiediamo altro. Leonardo Verdelli. Qui si sta bene, la società vuole bene a tutti, ci ha voluto tutti in determinato modo e quindi puntano molto su di noi e questo fa solo che piacere. Siamo positivi rispetto all'anno scorso, puntiamo più in alto, però poi è il campo sempre quello a parlare, quindi bisogna comunque cercare di mantenere alte le aspettative, ma comunque con i piedi per terra puntano a fare sempre bene. E Carlo Alberto Nocentini. Puntiamo più in alto possibile, partiamo con una base di arrivare a zona playoff, però non firmiamo per niente e cerchiamo di dare il massimo partita dopo partita. Mi sono trovato benissimo subito dal primo momento in cui sono arrivato, mi hanno accolto benissimo i compagni, abbiamo accolto benissimo ormai i nuovi compagni che sono arrivati quest'anno, sono arrivati l'anno scorso, siamo stati un bel gruppo unito e dobbiamo essere amici prima di compagni di squadra, quindi poi da lì si sviluppa tutto quello che ci circonda all'interno del campo.